OpenAI ha appena rilasciato il suo nuovo modello ChatGPT4 e quello che riesce a fare è davvero impressionante. Può convertire uno schizzo o disegno su un tovagliolo in un sito web funzionale ed è diventato ancora più intelligente nel riconoscere diversi set di immagini e contenuti. Quindi cerchiamo di capire esattamente cos'è ChatGPT4 e quali sono le funzionalità che lo rendono così speciale. Uno degli sviluppatori di OpenAI ha fatto una live stream dove ha introdotto questo multimodello AI. Inoltre ha condotto una demo per dimostrare come sia uno dei moteri di intelligenza artificiale più potenti al mondo. Da quando è uscita la notizia ho ricevuto notifiche ovunque, Twitter, Google e addirittura CoinMarketCap. Sì, perché ci sono alcune criptovalute che sono collegate alla narrativa dell'intelligenza artificiale. Fatemi sapere giù nei commenti se siete interessati a un video su progetti cripto che stanno cercando di implementare AI o intelligenza artificiale nei loro protocolli. Però fate attenzione perché quello che ho da dire potrebbe non piacervi. Tornando al nuovo aggiornamento di ChatGPT si può dire che questa versione è qualcosa di veramente eccezionale. E secondo alcuni annunci sul sito OpenAI, ChatGPT4 è multimodale. Questo significa semplicemente che a differenza delle versioni precedenti di GPT che erano basate sul testo, GPT4 può accettare ed elaborare immagini e testo. E non sarei sorpreso se ci fosse una componente audio in questa nuova versione. In questa immagine l'intelligenza artificiale è riuscita ad estrarre alcune informazioni chiave dalla foto. Varie tipologie di pasti o cibo che si possono ottenere dagli ingredienti della foto. Questa cosa sembra una cosa abbastanza semplice, ma è un processo che non esisteva nelle versioni precedenti di ChatGPT. Ora RedKapshka avrà il doppio del lavoro, dovrà cercare di capire se sei un essere umano o se sei un'intelligenza artificiale. C'è un pezzo nella livestream che considero quasi magia nera. Uno degli sviluppatori di OpenAI ha mostrato come si può disegnare o semplicemente fare uno schizzo di un sito web su un tovagliolo, scattare una foto e inviarla a GPT-4 e richiedere all'AI di produrre un sito web funzionale. L'intero sito web è stato prodotto in meno di 10-20 secondi. GPT-4 ha prodotto tutto il codice di programmazione in HTML, CSS e JavaScript per presentare il sito web. Il codice è stato copiato e incollato in un editor e presentato come prodotto finale e funzionale. Come aspirante a programmatore vorrei dire che questo è molto impressionante. Su Twitter un utente con il nome di Pietro Cirano è riuscito a ricreare il gioco Pong nel giro di 60 secondi usando GPT-4. Jake Brasche, un altro utente di Twitter, è riuscito a creare un'estensione Chrome nel giro di qualche ora, senza nessuna esperienza di programmazione. Questa semplice estensione traduce il testo di qualsiasi pagina web in Pirate Speak, o in italiano, linguaggio pirata. GPT-4 ha inoltre aggiunto un tema pirata all'estensione con alcuni prompt aggiuntivi. E ragazzi, non so se lo sapete, ma ci sono estensioni Chrome che riescono a generare molteplici milioni di euro all'anno. E una delle estensioni più popolari è Adblock, un'estensione che blocca tutte le pubblicità dei vari siti web. Hanno circa 40 milioni di utenti e l'azienda ha fatturato circa 44 milioni di dollari nel 2017. OpenAI ha inoltre presentato alcune aziende che stanno già lavorando con loro per sincronizzare i loro prodotti con GPT-4. Aziende come Khan Academy, un'organizzazione senza scopo di lucro, con la missione di fornire un'istruzione gratuita a livello mondiale, a chiunque e ovunque. L'organizzazione offre migliaia di lezioni di matematica, scienze e discipline umanistiche per studenti di tutte le età. Questo vuol dire che forse i nostri figli riceveranno lezioni da un'intelligenza artificiale. Qual è la vostra opinione? Pensate che un'intelligenza artificiale abbia il potenziale di fare un lavoro migliore in termini di educazione? Fatemelo sapere già nei commenti. Nel breve termine però sembra che sia sicuramente un ottimo assistente a portata di mano per qualsiasi mansione scritta o visiva. Duolingo, l'azienda tech per l'apprendimento di lingue in modo digitale, è stato integrato nell'applicazione con alcune funzionalità molto interessanti, seppur limitate inizialmente a pochi corsi e piattaforme. Nello specifico, questo nuovo aggiornamento sarà disponibile esclusivamente per chi parla inglese su iOS e studia spagnolo e francese. Il modello GPT-4 è stato utilizzato per sostenere diversi esami, che normalmente sono disegnati per esseri umani, o meglio, studenti americani. Il risultato è stato straordinario. GPT-4 ha avuto una performance migliore di qualsiasi modello AI in esistenza al giorno d'oggi. Ha superato esami come il Debor Exam, uno degli esami più difficili negli Stati Uniti eseguito da studenti di legge. Questo esame è così difficile che in certe giurisdizioni in America, meno del 50% dei partecipanti finisce l'esame con un esito positivo. GPT-4 è riuscito a passare questo test e tutti questi esami in ordine di difficoltà senza problemi e performando meglio della versione GPT-3. Questa nuova versione può ricevere input visivi, produrre e gestire oltre 25.000 parole di testo, che è una capienza molto più grande rispetto ai modelli precedenti. GPT-4 è migliorato anche nelle sue capacità di ragionamento. Nell'esempio mostrato nella presentazione, se stai cercando di prenotare un appuntamento tra i calendari di due persone con disponibilità diverse, GPT-4 può ragionare meglio e capire un orario che funzioni per entrambi gli individui. OpenAI ha impiegato 6 mesi per assicurarsi che GPT-4 abbia l'82% di probabilità in meno di creare richieste per contenuti inadeguati e il 40% di probabilità in meno di produrre notizie false o informazioni imprecise. La nuova versione è disponibile solo nella versione a pagamento di ChatGPT Plus, dove bisogna pagare 20€ al mese. Purtroppo non sono ancora riuscito a provare ChatGPT-4, ma è una cosa che intendo fare prestissimo, perché utilizzo ChatGPT-3 praticamente quasi tutti i giorni. In un futuro dove GPT-4 è nettamente superiore alle versioni precedenti, sarà interessante vedere cosa faranno o cosa succederà alle versioni vecchie come GPT-3 o GPT-3.5, ora che abbiamo accessibilità a questa nuova bestia. Grazie per aver prestato attenzione a questo video, iscriviti al canale se vuoi guardare altri video su tema business, crypto e tecnologia. Grazie.